Stangata sulle bollette, famiglie spezzine preoccupate, la polizia celebra San Michele Arcangelo. Si terrà la spezia la 71esima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nel settore della logistica opportunità di lavoro per i giovani. Al termine al crociere una sfilata solidale per sostenere la Caritas. Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TLS giornale. Lo avete sentito dai titoli, sono in arrivo i temuti aumenti sulle bollette di luce e gas. I rincari scatteranno da venerdì 1 ottobre e sono rincari che si faranno sentire anche in relazione al difficile momento economico che stanno vivendo tante famiglie. Maria Torre e Sergio Diofili. Nonostante l'intervento del governo per contenere gli aumenti, le bollette della luce e del gas sono aumentate rispettivamente del 29,8% e del 14,4%. Abbiamo chiesto ai cittadini cosa ne pensano di questa situazione. È una delle tante situazioni anomale che si stanno creando in Italia, c'è l'Ener, ci sono altre situazioni. È una bella legnata, comunque se c'è da pagare paghiamo. Incide molto sull'economia della famiglia perché sono aumenti consistenti, non sono percentuali modeste e poi forse il governo poteva fare un po' di più aiutando le famiglie e non solamente quelli che con l'Ise ha 8 mila perché anche avere 15 o 20 mila non è che oggi sia molto. Lei come pensa di affrontare questo problema? Bisognerebbe non pagare più niente. Penso che sia un grosso problema per le famiglie bisognose e credo che ci debba essere un intervento dello Stato per andare a aiutare queste famiglie. La sua famiglia quanto spende di energia? A bimestre, sui cento. Spendo abbastanza, abbastanza. Di luce e di gas, gas per il riscaldamento, la luce la usiamo perché avremo un bel rincaro sulla quota annua. Vivo in casa con i miei e quindi il discorso pagamento di bollette, luce, gas sta ai miei finitori e dispiace che in un periodo pandemico così ci sia questo aumento di prezzi che sia poi dannoso anche per chi in un futuro vorrà andare a vivere da solo. I continui aumenti delle energie non rinnovabili potrebbero incentivare l'utilizzo di quelle rinnovabili, cioè non provenienti da fonti fossili? Secondo me sì, sì. Ora teniamo conto che da quello che dicono gli esperti questo aumento dei costi è dovuto al fatto che non era previsto una domanda così alta di consumi, quindi di acquisto. Io spero che tutto questo contribuisca a far sì che si vada verso un concetto di energia rinnovabile. Speriamo, però vedo che anche se ci sono quelle rinnovabili non è che è diminuito in questi anni il prezzo, è sempre quello. Non credo che le pale deturpino il paesaggio, credo che sia il male minore rispetto a un aumento dei casi di malattie dovute all'inquinamento. Io sono per il nucleare, pro nucleare, io sì. Sarebbe una buona cosa poter incentivare l'inizio di quelle rinnovabili. Speriamo nelle fonti rinnovabili che sia la possibilità di metterle alla svelta e quindi di poter risparmiare anche per l'ambiente, indubbiamente. Vediamo ora i numeri della pandemia al bollettino sanitario odierno. Nella nostra provincia si registrano 22 nuovi casi per un totale di 400 persone attualmente positive. Gli ospedalizzati sono 7, di cui nessuno in terapia intensiva. Le sorveglianze attive sono 362. In Liguria i nuovi casi sono 95, a fronte di 3.736 tamponi effettuati. Gli ospedalizzati sono 59, di cui 8 in terapia intensiva. Le sorveglianze attive sono 1.406. Non si registrano ulteriori decessi rispetto all'ultimo aggiornamento. Durante tutto questo periodo di pandemia, chi ha svolto un grande lavoro al servizio dei cittadini sono state senza dubbio le forze di polizia. Oggi è San Michele Arcangelo proprio il patrono della polizia. Nella tradizione cristiana San Michele è colui che combatte e sconfigge Satana. Proprio per questo è stato proclamato da Pio XII nel 1949 protettore delle forze dell'ordine, in omaggio alla lotta che il poliziotto compie ogni giorno al servizio dei cittadini. Questa mattina gli uomini e le donne della polizia hanno celebrato il loro patrono, prendendo parte di una santa messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Pegazzano. Italo Lunghi. Oggi San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato. La festività liturgica è stata celebrata con solennità presso la chiesa parrocchiale di Pegazzano. Una messa presieduta dal nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, dei dirigenti, funzionari e personale della polizia di Stato, dei loro familiari, molti ex appartenenti alla istituzione di pubblica sicurezza, oggi in quiescenza ma ancora legatissimi alla polizia. A rappresentarli tutti il labaro dell'associazione, posto in posizione d'onore ai piedi dell'altare. Nell'omelia il vescovo ha ricordato la figura di San Michele, la sua battaglia contro il male, quale motivo della scelta dell'arcangelo, quale patrono della polizia. Celebriamo dunque quest'anno, come ormai tradizione, la solennità di San Michele Arcangelo. E come sempre sono le consuetudine che io dica, San Michele va sempre però tenuto fortemente legato assieme agli altri due arcangeli, Raffaele e Gabriele. Michele decisamente è l'arcangelo della grande lotta. L'abbiamo sentito anche nella lettura della parola di Dio. Questa lotta fra il bene e il male, ma non fra un'idea di bene e di male, ma con dei volti ben precisi, con delle operatività ben precise che superano ampiamente il nostro visibile. Lo scenario di quel cammino visibile che vediamo sulla Terra e che tanto porta a sconcerto quando ovviamente opera in modo negativo, è però qualche cosa che appartiene a uno scenario ancora più grande, è uno scenario invisibile che però muove tutte queste fila. Ecco, Michele è colui che è preposto a combattere e a vincere questo. Però abbiamo detto che bisogna sempre tenerlo insieme, anche a Gabriele e anche a Raffaele. perché altrimenti quello che viene fuori è uno scenario di repressione, di combattimento, di vittoria. Ma sappiamo che nel progetto di Dio, per noi, lo scenario è quello non solo di riportare il bene, ma di introdurre nel bene, fino in fondo, la nostra esistenza e di compiere la redenzione di ognuno di noi. Al termine della celebrazione, in un'atmosfera commossa per il ricordo dei caduti, il questore, dottoressa Silvia Burdese, ha rivolto un pensiero ai convenuti, un sentito ringraziamento per il sacrificio personale e collettivo degli uomini e donne della Polizia di Stato nell'addempimento dei propri doveri e per il senso di umanità con il quale ogni giorno si adoperano per la sicurezza di tutti i cittadini e per la tutela della legalità. La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, durante i suoi 30 anni di attività, ha contribuito a formare moltissimi giovani. Una formazione professionale e qualificata che ha permesso a tanti di loro di costruirsi importanti carriere lavorative. E importanti opportunità sono disponibili anche in questo momento con bandi aperti per giovani sotto i 30 anni. Sergio Diofili. La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica organizza tre corsi completamente gratuiti per formare operatori della logistica. La Regione Liguria ha recentemente fatto un bando molto interessante, un avviso molto interessante che riguarda la cosiddetta formazione in alternanza. Cioè fare una formazione che veda coinvolta direttamente l'azienda, una formazione che si svolge per 50% presso la scuola e per il 50% presso l'azienda. I corsi sono già stati banditi, sono tre corsi, uno per operatore polivalente nei siti, nei terminal portuali e scade il primo ottobre, quindi tra due giorni. Si tratta appunto di 24 giovani che faranno poi esperienza presso il porto della Spezia. Un altro corso sempre per operatore polivalente per giovani che faranno poi esperienza presso il porto di Marina di Carrara, scade il 4 e poi un corso per quanto riguarda gli spedizionieri che invece scadrà il 18 ottobre. Il 2021 è l'anno che segna il trentennale della Scuola Nazionale di Trasporti e Logistica. In questi trent'anni sono stati raggiunti molti risultati notevoli. Sì, devo dire che i significati di questa scuola non è stato soltanto così nel suo logo che è sempre affascinante, trasporti e logistica, cioè delle materie che vanno verso la modernità, verso il nuovo, ma è stata in verità un'iniziativa molto concreta. Sono passati tantissimi giovani da noi che oggi sono dirigenti nelle varie aziende, sono occupati in un settore strategico che dà molte soddisfazioni professionali e che oltretutto alla Spezia rappresenta un punto nevralgito e assolutamente importante per l'economia della nostra città. Si terrà a Spezia il prossimo 10 ottobre la settantunesima edizione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Interverrà fra gli altri il ministro del lavoro Andrea Orlando. Un'occasione preziosa per riflettere su un fenomeno tragico, quello delle morti e degli infortuni sul lavoro che non può più essere tollerato. Adesso la politica, competizione elettorale serrata ad Amelia dove a contendersi la poltrona di sindaco sono ben tre liste. L'outsider civico Mauro Manzi che abbiamo ascoltato ieri sera, Mauro Ciri e Umberto Galazzo. Per Galazzo in caso di vittoria sarebbe un terzo mandato essendo già stato sindaco di Amelia dal 2004 al 2014. Jacopo Cidale e Raffaele Maulella. Umberto Galazzo già in passato sindaco di Amelia, come mai la scelta di ricandidarsi? Intanto per la passione che ho per la mia terra e per le tante amicizie che ho in quel territorio che mi hanno coinvolto in questo progetto per cercare di rilanciare un po' Amelia che in questi sette anni si è un po' bloccata. Ho accettato per spirito di servizio ma anche perché ci metto entusiasmo con uno spirito nuovo e provare un po' a vedere se Amelia può tornare a vedere in progetti per il futuro una posizione un po' più degna. I punti principali del suo programma? Il nostro programma si basa prima di tutto su una voglia di partecipazione che abbiamo registrato da parte della gente e quindi cercare di coinvolgere di più i cittadini nelle scelte. I cittadini ma dico anche gli operatori di fronte a scelte che poi vanno a incidere sul nostro territorio. La macchina comunale è bloccata, il personale è allo sbando, ci sono tanti dipendenti che sono stati trasferiti e hanno chiesto il trasferimento e in questo momento i servizi che il comune sta erogando sono in crisi. Quindi c'è bisogno da una parte di cercare di recuperare l'organizzazione degli uffici e dall'altra parte di cercare di guardare con una visione un po' più verso il futuro o con progetti che possano coinvolgere le persone e che abbiano su scala di rete e di territorio più vasto la possibilità di accedere a finanziamenti del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sul tema del dissesto idrogeologico? Purtroppo gli eventi meteorologici degli ultimi giorni sono fatti carico di rimettere al primo posto nelle priorità anche del nostro territorio della lotta al dissesto idrogeologico. Mentre prima si è dovuto concentrare di più al rischio principale che è quello di esondazione del fiume secondo me si è perso un po' di tempo nell'affrontare quello che è il problema in questo momento principale che è quello dei colatori minori che dei versanti vanno poi a incontrare la piana del territorio e quindi a causare allagamenti. C'è da fare un lavoro complesso che riguarda il recupero del territorio boschivo, la creazione di briglie che possano rallentare la velocità e accumulare i detriti, di creare al tempo stesso un sistema di ricezione delle acque in grado di evitare tutti questi problemi. È un problema complesso che però va progettato e programmato. Ci sono le risorse e ora in questo momento a livello nazionale bisogna intercettare finanziamenti. E a sfidare Umberto Galazzo oltre a Mauro Manzi con Amelia Civica è in campo Mauro Ciri. Nella sua lista diversi elementi della maggioranza uscente. Jacopo Cidale e Sergio Diofili. Mauro Ciri candidato sindaco ad Amelia, come mai la scelta di scendere in campo? Ho la passione politica, è un'attività che avevo già fatto molti anni fa, interrotta per scelte professionali. Oggi sono pensionato, il tempo, la possibilità di occuparmi del paese che mi ha ospitato da 50 anni a questa parte. I punti principali del suo programma quali sono? Ruota il programma attorno a tre elementi fondamentali che sono il cittadino, posto proprio al centro dell'attività politica, dell'iniziativa amministrativa, intendendo con questo l'attenzione a quelle che sono le fragilità di un sistema oggi accentuate dal discorso della pandemia. Al territorio, il territorio inteso proprio nella sua complessità, quindi la tutela dell'ambiente che è il patrimonio più importante di cui Amelia è dotato e che è la più rilevante di tutte le imprese che lì lavorano. Infine lo sviluppo ovviamente che deve essere compatibile assolutamente con queste due linee fondamentali della programmazione che noi abbiamo inteso proporre all'attenzione degli amegliesi. Quindi lo sviluppo che deve essere assolutamente attento a quelli che sono i bisogni, a quelli che sono i disagi, alla protezione del territorio, all'eliminazione del rischio residuo che ancora purtroppo esiste sul nostro territorio. Altri punti che avete nel programma? Gli aspetti più importanti poi di questo programma si rifanno proprio all'attenzione che deve essere rivolta alle categorie, abbiamo detto, più fragili, che sono i giovani da una parte e gli anziani dall'altra. Sia da un punto di vista della sostenibilità, dell'assistenza, dell'attenzione a quelli che sono questi bisogni e per i giovani soprattutto a quello di offrire gli spazi per crescere meglio. Quando dico spazi dico anche momenti ludici, la possibilità di esercitare attività sportive in luoghi protetti, di attività sportive che non siano le solite ma che possano usufruire anche delle bellezze ambientali che noi abbiamo. Il primo di tutti è il fiume, quindi sport acquatici che per oggi sono frequentati poco, ma anche lo sport ambientale, quello delle bike, l'utilizzo quindi di sistemi di trasporto che non sono inquinanti ma che aiutano a conoscere meglio i luoghi della nostra terra. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Davide Natale, esprime forte preoccupazione circa la possibilità che l'azienda Inalpi abbandoni la produzione dello yogurt biologico di Varese Ligure. Perdere un'attività che impiega 15 persone sarebbe gravissimo, afferma il consigliere Natale. Occorre che tutti si impegnino per risolvere questo problema a cominciare da Regione Liguria. Ed è in arrivo un importante finanziamento da Regione Liguria per il comune di Sarzana. 1.055.000 euro che serviranno per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale sul torrente Calcandola. Il Museo del Castello San Giorgio è il museo più antico della città e quello maggiormente legato alle tradizioni storiche locali. Visitarlo sarà ora un'esperienza ancora più piacevole e divertente grazie ad un'applicazione multimediale. Maria Torre e Sergio Diofili. Oggi è stata presentata al Museo San Giorgio una nuova audioguida basata su un'app. È un modo per vedere la storia, viverla in modo emozionale e in modo molto diretto. Quindi il museo diventa interattivo, non solo diventa interattivo, ma fa veramente approfondire ogni argomento per tutti. Per gli spezzini, per i turisti e questo lavoro è stato fatto durante il lockdown, durante il Covid, proprio per riaffacciarci al mercato del turismo in modo nuovo, con delle innovazioni, proprio perché il Castello San Giorgio, che è il luogo più visitato della nostra città, il museo più visitato della nostra città, deve ancora essere più frequentato, in modo che diventi un valore aggiunto per tutta la nostra città. Quali sono le caratteristiche di questa nuova app? Rispetto alle vecchie audioguide, intanto è una videoguida, perché contiene dei materiali visivi, che sono in parte fotografie, che servono per aiutare la comprensione del visitatore degli oggetti o le opere contenute. Per cui si trovano delle immagini di confronto che altrimenti non si vedrebbero, oppure l'ambiente di ritrovamento, oppure come sono state ritrovate nel passato o rovinate, ad esempio, da dei bombardamenti, per ricordare la storia dell'oggetto. Poi ci sono anche dei video, però, questo è un contenuto in più, sono dei video di archeologia sperimentale, per cui viene sperimentato o l'abbigliamento dei romani per capire come mettersi la toga, che è una cosa complicatissima, ma anche per quanto riguarda la preistoria capire a cosa servivano queste punte di selce, questi piccoli strumenti che potevano servire per creare una punta di freccia. Quindi abbiamo degli operatori ripresi che fanno queste attività della preistoria, delle epoche antiche, in diretta per il visitatore. C'è una parte didattica per i bambini, i ragazzi e per le scuole? Può essere un'idea anche trasmetterla ai ragazzi, perché molte di queste attività noi le facciamo proprio come didattica per i bambini e per le scuole. E questa è una particolarità del museo, a cui teniamo tantissimo, e che a breve ripartirà, assolutamente deve ripartire, vogliamo rivedere il museo pieno di bambini. Gustavo Bellazzini, uno degli ultimi superstiti dell'affondamento della Corazzata a Roma, compie oggi cento anni, un secolo di vita. Per fargli gli auguri riproponiamo una sua breve intervista raccolta nel giugno scorso. Gustavo Bellazzini, spezzino, classe 1921 fuochista, uno dei pochi superstiti della Corazzata a Roma. Come ha fatto a salvarsi lei? Come ha fatto? Lei deve pensare che mi sono salvato proprio per un paio di minuti, perché io nell'affondamento quando è esploso la seconda bomba ero un disodinomo di poppa, giù in fondo, e mi è riuscito, non so come ho fatto a arrivarsi in coperta, perché c'erano cose corazzate, anche c'erano i ponti corazzati. Quando sono arrivato in coperta l'acqua era già al tricarino, la nave era già quasi rovesciata. Ho fatto altro che buttarmi in acqua così, ho fatto 50 metri, la nave si è rovesciata e si è spezzata in due. Admultos annos, come si dice in questi casi. Domenica scorsa il Terminal Crociere 1, il Largo Fiorillo, si è trasformato in una passerella, ospitando una sfilata solidale. I fondi raccolti nel corso della serata serviranno infatti a sostenere i progetti della Caritas dedicati ai meno fortunati. Daniele Ramuazzo. In questo momento di difficoltà, Don Luca Palei ci ha chiesto una mano, a parte le difficoltà del Covid, adesso hanno anche le difficoltà degli afghani che stanno arrivando, e quindi noi, il nostro staff, si è sentito in dovere e con grande orgoglio di poterlo aiutare per questa raccolta fondi. Vedremo le nostre attività commerciali locali che ci hanno supportato nel portare i loro migliori modelli, le loro migliori modelle e le loro offerte commerciali. Spaziamo da oggettistica ad abbigliamento, ad abbigliamento per bambini e abbigliamento a sposi. I negozi hanno risposto positivamente a questa iniziativa perché ovviamente sanno che tutto quello che verrà ricavato dalle offerte che questa sera raccoglieremo andranno in beneficenza e si sono resi estremamente disponibili, come anche si sono resi disponibili nell'offrire quello che noi stasera offriremo come buffet agli ospiti presenti, molte attività commerciali nel campo alimentare. Perché come commerciante avete voluto dare questa iniziativa? Perché ci fa sempre piacere sostenere delle iniziative a vantaggio della nostra città e soprattutto della collettività e partecipare a dei fini nobili, utili e soprattutto concreti. Don Luca, un'importante iniziativa dei commercianti a favore della carità, come non ringraziarli? Davvero con tutto il cuore, infatti mi piace questo slogan che la carità va di moda, nel senso che grazie al loro buon cuore e alla loro generosità questa sera è una serata di beneficenza ma di provvidenza perché quello che incasseremo andrà proprio per il sostegno dei nostri progetti che hanno tanto bisogno in questo tempo così di sfide e direi anche di risposte urgenti e particolarmente esigenti. Quindi insomma la loro buona volontà ci permetterà di fare grandi cose e ne sono davvero convinto. Adesso lo sport con le aquile. Continuano gli allenamenti dello Spezia sul terreno del Comunale di Follo in vista dello scontro diretto di domenica prossima alle 15 contro l'Ellas Verona. Riscaldamento tecnico e partitella finale a campo ridotto per le aquile che hanno accolto in gruppo Orelien e Nguimba nel suo primo allenamento in maglia bianca. In forte dubbio per domenica Capitan Giulio Maggiore che si è sottoposto ad una seduta di fisioterapia. In forse anche Collei e Rezza che hanno svolto allenamento differenziato mentre si nutre una qualche speranza di rivedere in campo sia Erlich che Kovalenko. Per domani è prevista una nuova seduta mattutina a Follo. E a dirigere la gara del Bente Godi contro l'Ellas sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara al VAR Gersini di Genova. È tutto per questa edizione. Io vi lascio come di consenso le previsioni del tempo a cura di LIMET centro meteo della Liguria. Da parte mia come sempre l'augurio di una buona serata. Un saluto a tutti da Marco Fanini di LIMET prosegue la fase di tempo stabile sulla nostra regione prima di un nuovo aumento della nuvolosità nel fine settimana ma andiamo nel dettaglio a vedere le previsioni per la giornata di domani giovedì 30 settembre 2021 tra nottata e mattinata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso da segnalare solo la presenza di locali banchi di nuvi basse o nebbia nelle vallate dei versanti padani dell'Apennino nel pomeriggio ancora tempo in gran parte soleggiato se si esclude la formazione di locali addensamenti innocui in montagna il vento sarà moderato dal nord est sul centro ponente più debole a Levante il mare sarà mosso per onda residua da sud ovest molto indoso in calo già dalla mattinata le temperature saranno stazionarie e un lieve calo nelle massime delle zone interne sulla costa le minime saranno comprese tra i 15 e i 19 gradi mentre le massime tra i 24 e i 27 gradi nelle zone interne le minime saranno comprese tra gli 8 e i 13 gradi mentre le massime tra i 21 e i 23 gradi per ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito www.centrometeoligure.com oppure a scaricare la nostra app di Limet www.centrometeoligure.com 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 www.centrometeoligure.com